via del collettore primario 23 gennaio 2013 a questo punto credo che sia diventata una sfida tra noi e loro questa notte sono tornati a colpire i grandi geni della bomboletta spray ed ecco il risultato questa praticamente sarà fatta sicuramente questa notte quantomeno la notte precedente è chiaro che dopo aver fatto tutte le segnalazioni possibili i ragazzi stanno prendendo questa cosa come un gioco come una sfida noi cerchiamo di capire quanto vogliono provocarci comunque questo è il risultato di pulizia tentando di risaltare il degrado che appanaglia questo quartiere evidentemente abbiamo fatto un risultato di gente che non sanno che vuol dire decoro ok noi faremo la nostra segnalazione come sempre staremo a vedere quello che succede ok ok Grazie a tutti